La decima edizione dell'Eneco Tour si disputerà da lunedì 11 a domenica 17 agosto per un totale di 7 frazioni che si snoderanno nel Benelux, una regione comprendente Belgio, Olanda e Lussemburgo. Il detentore della corsa è il cieco Stibar, autore l'anno passato di un'azione stupenda nell'ultima tappa. Le prime tre giornate saranno totalmente pianeggianti poiché saranno in territorio olandese. Le prime due vento permettendo dovrebbero favorire gli sprinter puri, mentre la terza sarà una crono di 9,6 km tra le vie di Breda. Anche la prima tappa belga sarà molto semplice, mentre invece saranno tutte da seguire le frazioni di Gerardsberger, della Redut e di Sittergargelen che alterneranno i muri del Fiandre con le cotte della Liegi. Tra cui quella simbolo, ossia la celeberrima Redut che sarà sede d'arrivo. Essendo l'Eneco Tour una corsa del calendario del World Tour ci saranno i nastri di partenza tutti e 18 i team della Serie A ciclistica. Al via avremo grandi esperti di queste strade come Gilbert, Van Mark, Christophe Bonen, Stibar e Cancellara. Pertanto apprestiamoci a vivere una grande settimana in terre dal fascino immutato. Grazie. Grazie. Grazie.